buongiorno amici benvenuti in questo nuovo video dedicato alle novità della stagione oggi di Fortnite, terza settimana e aggiornamento uscito proprio qualche ora fa perché oggi è giovedì 16 novembre e sono arrivate le ricompense gratis per tutti sono usciti dei nuovi incarichi e se li completeremo, si tratta veramente di fare livelli account ci porteremo a casa anche una skin gratuitamente che fa parte del set delle corse ora andiamo a vederla, eccola qui, obiettivi pilota da passerella con 5 livelli account riceveremo i pompon, con 20 livelli account, la copertura dedicata al set velocità chic poi avremo il backpack e infine la skin quindi un sacco di regali per tutti, tra l'altro la skin ha un sacco di stili ora li vediamo insieme al volo eccoli qui davvero niente male una serie di incarichi che avremo la possibilità di completare entro il primo di gennaio 2024 quindi avremo un sacco di tempo ma se seguite il canale tutti i giorni escono mappe creative per livellare velocemente sia il pass battaglia che l'account queste sono le tre skin segrete eccole qui Maneto e la rinegata dorate e anche Ragnarok dorato quindi se avete raggiunto il livello 60 potrete sbloccare anche queste tre skin in versione dorata quindi fatemi sapere cosa ne pensate mi raccomando iscrivetevi al canale per rimanere sempre connessi e attivate la campanellina per ricevere le notifiche su tutti i video che escono sia la mattina che al pomeriggio mattina dedicato alle novità dello shop con relativo contest e è nel pomeriggio con le mappe creative e vi ricordo che oggi, cioè adesso, è il momento di comprare di attivare l'abbonamento crew perché avrete la possibilità di ricevere i 1000 VBAC 2 skin e 1900 VBAC di ritorno perché avrete la possibilità di riscattare il pass OG e anche il pass della stagione 5 capitolo 5 stagione 1 quindi mi raccomando se volete farlo usate il codice creatore e taggatemi su Instagram trovate il link in home di YouTube perché vi riposterò e vi menzionerò nei prossimi video io vi ringrazio per aver visto il video fino a questo punto noi ci vediamo più tardi con la mappa creativa e auguro una buona giornata e una buona settimana a tutti ciao 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 ciao